E' bello a tutti! Ciao a tutti ragazzi, questo è un video in acqua. Era inaspettato, siccome non sapevamo che voleva portare la nostra. Allora, cerchiamo di rispondere a qualcosa. Non lo so, non sapevamo che video fare, quindi abbiamo detto che facciamo un vlog sull'acqua. Speriamo che non ci vengi il telefono. No, no, no. Ok, quindi facciamoci vedere. Ok, adesso. Ho avvistato una lumaca di mare, quindi andiamo a visitare. Questa è una lumaca di mare. Bellissima! Che può essere usata anche come conchiglia. Bella! Continuiamo ancora. Abbiamo avvistato qualcuno. Tre! Ha uno! Ha ceso il video! E' una femmina! E' una tua! Una femmina! Allora forse c'è un riccio. Quindi andiamo. Andiamo. Questa è femmina. Questa è femmina. Vedo che ce n'è molti di più ancora. Quindi andiamo. Andiamo di nuovo. Andiamo. 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 Mi. Ancora! Al momento lo mettiamo nel retino ok ragazzi mettiamolo nel retino è attaccato nel piede quindi dobbiamo tirare una bellissima idea è profondo però è tirare ok non è neanche piccolo però poi alla fine ragazzi appena appena finiamo di stare qui a mare facciamo una bellissima foto a tutti questi lì allora ragazzi non avevo che idee fare per video su youtube quindi perderò tempo perché siccome negli iphone non si può fare la pausa devi staccare i video quindi stacchi 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 uno quindi ora devo perdere circa due orette all'impostarli tutti bene 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 vabbè pazienza per questo ci vuole pacienza pazienza purtroppo è una passione quindi per la passione non ci si stanca mai infatti ecco a me se fosse un lavoro ora riprendo il telefono e vi faccio vedere che sotto la scoglia ce n'è un bel trucco dammi guardate vedete ok quindi ora riprende lei che oggi è la mia cameraman quindi dai vai zeta andiamo 3 2 1 va bene ragazzi purtroppo ci vuole mentre che noi cerchiamo di prendere questo ci vuole molto ossigeno questa triccia cerchiamo di prendere questo triccio e poi vi faccio vedere mettiamo una pausa ok questo è bello grandetto ed è femmina allora le femmine sono di colore marro o viola così nere sono tutti ok ragazzi ci vuole molto assato ci vuole molto tu non direi perché io vado sotto acqua e tu mica diciamola qua è bassa quindi adesso mettiamo tutti qua sempre qua ops sta attenta quindi se qualcuno che mi seguo che magari vedrà questo video e infatti può pescare su un po' qualcosa del genere non ne capisce di mare ti può scrivere gentilmente sotto i commenti che specie di riccio è quello bianco perché io non capisco non ho mai visto riccio del genere però ho visto in un video in un video ho visto che un riccio del genere fosse un riccio valenoso quindi non lo so cerchiamo di toccarlo meno se già ho avuto qualche puntura e non so di quale riccio è stato quindi se cadrò malata come una vera cosa è a causa del triscio ok a mezzogiorno un altro tipo 10 minuti e poi usciamo un po' a mangiare ok ragazzi a dopo non ci sono Vede, guardate che tempo che c'è Comunque ragazzi, ci siamo dimenticati a terminare il video Noi vi diciamo mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo